Esposizione e adorazione del Santissimo tra preghiere animate dalla comunità Gesù Risorto, seguita dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Lucia, nella notte a cavallo tra il 31 ottobre e il 1 novembre. È la Notte dei Santi, giunta al quarto anno, organizzata per riscrupire il vero significato della ricorrenza di tutti i Santi in contrapposizione ad Halloween. Una festa pagana anglosassone che trae le sue origini da ricorrenze celtiche legate al mondo dell'occulto. Una festa commerciale all'insegna dell'allegria accompagnata dal classico ritornello trick-on-treat, ovvero dolcetto scherzetto alla quale la chiesa risponde invitando i fedeli nella preghiera. Per noi il 31 ottobre è la vigilia di tutti i Santi. Questa festa che richiama alla nostra mente la chiamata universale alla santità, ce lo ricorda anche il Concilio Vaticano II. Per noi i Santi sono modelli di vita cristiana, quindi per noi questa festa ha solo valore commerciale, e non solo valore commerciale e consumistico, ma apre purtroppo all'esoterismo, alla magia, e in modo subito abitua i bambini sotto forma di festa, di carnevale, mi permette il termine, una carnevalata autunnale, l'ho definita l'altro giorno parlando con un altro carissimo amico, quindi apre a questa realtà esoterica che non ha nulla a che fare con la nostra tradizione cristiana del culto dei Santi, seguito dal culto dei morti. La Chiesa in questi giorni si riunisce, la Chiesa che non siamo solamente noi che siamo qua giù sulla terra, noi siamo la cosiddetta Chiesa militante, che in questi giorni ci uniamo alla Chiesa trionfante, cioè a quei fratelli che hanno raggiunto la gloria del cielo, e alla Chiesa purgante il 2 novembre, con i nostri defunti, con i quali siamo uniti nella preghiera e nel suffraggio. La proposta è partita quattro anni fa dalla comunità Gesù Risorto che opera in questa Chiesa parrocchiale, successivamente c'è stata anche la collaborazione dei frati della misericordia che operano presso la Chiesa Sant'Agata. Infatti dopo la conclusione di questo incontro di preghiera qui a Santa Lucia, a mezzanotte chi vuole può continuare l'adorazione presso la Chiesa del Collegio.